e bentornati tutti quanti nella locanda oggi con un nuovo video più esattente andremo a vedere la patch che è uscita ieri sera infatti è stata annunciata le note della patch 27.0 che uscirà qua intendo domani ma ovviamente essendo uscito tutto quanto ieri uscirà esattamente oggi tra l'altro uscirà in contemporanea con la mega car review che andremo a fare io con viso e caius e tanti altri ospiti qui sul canale dalle 20.30 in poi con vari mega bundle da offrirvi vediamo tutte quante le carte commentiamo eccetera eccetera la patch è appunto per prepararsi a titani la nuova espansione di airson che uscirà il primo di agosto però include anche aggiornamenti a battaglia duelli arena e molto altro partiamo immediatamente con appunto i titani vi ricordo anche dal primo agosto uscirà la nuova espansione con 145 nuove carte ritornerà l'abilità magnetismo ma noi l'abbiamo già vista perché abbiamo guardato tutte quante le carte e per quanto riguarda appunto se siete curiosi seguite tutta quanta car review di stasera così vi fate anche un'idea se ha senso andare a scioppare questa espansione se non ha senso se saranno belle le carte oppure no per quanto riguarda appunto il pacchetto di preacquisto lo potrete acquistare solo fino al prossimo appunto lunedì diciamo perché martedì poi esce l'espansione per quanto riguarda c'è un nuovo evento che avverrà dal 3 agosto che è un giovedì abbiamo bensì una cosa come 6 bustine in totali due dello standard due della nuova espansione una bustina della vecchia espansione di quest'anno feste delle leggende e una invece dorata standard il che mi piace molto in verità bustina dorata è un bel toccasana ci saranno le solite missioni basta completarle e via per quanto riguarda con la 27.0 verranno aggiunte anche due nuove carte al set principale del paladino quindi corsette queste carte ovviamente essendo dei corsette sono completamente gratuite le troverete già aggiunte alla vostra collezione le abbiamo già viste in car review sono due carte molto interessanti con questa nuova meccanica aura che persiste appunto per alcuni turni dopo aver giocato la carta c'è un'altra carta con aura del paladino in questa nuova espansione ma appunto quella lì riguarda l'espansione invece queste qua rimarranno fino a quando non decideranno di toglierle dal corsette appunto usciranno con la 27.0 quindi teoricamente dovrebbero essere già disponibili a stasera e potremmo già iniziare a giocarle in anteprima prima dell'espansione per quanto riguarda hanno già detto che anche per le espansioni future avranno intenzioni di proseguire su questo stile per il paladino quindi aspettiamoci tante carte con aura per quanto riguarda in battaglia hanno fatto diversi aggiornamenti alle missioni, all'armatura, alle carte, ai servitori e anche alle descrizioni per quanto riguarda duelli fanno l'aggiornamento alla stagione quindi il 25 luglio oggi la stagione di duelli terminerà quindi vi consiglio di andare a iniziare una run in duelli che teoricamente una volta che vi fermerete alle due sconfitte poi vi si dovrebbe refresciare vi dovrebbero dare il ticket e le ricompense e così potrete iniziarne una nuova i punteggi saranno azzerrati e le sessioni in corso appunto verranno chiuse a quel punto cenere delle terre esterne verrà aggiunta ai mazzi e alle opzioni per la selezione di carte anche i titani diventare disponibili per la selezione di carte ma non per costruire il mazzo iniziale fino all'uscita del 1 agosto quindi i titani ci sarà ma non potrete ancora poter usufruire per quanto riguarda c'è anche aggiornamenti agli eroi aggiornamenti alle carte disponibili e poi c'è l'aggiornamento all'arena stessa cosa i duelli io qua vi consiglio sempre di andare a iniziare una run in arena fermarvi alle due sconfitte in modo da avere il ticket gratuito e in più le ricompense questi sono i set che ci saranno in arena quindi i titani, festival delle leggende percorso di Arthas che praticamente sarebbe il DK le tre vecchie espansioni e ovviamente salvatori di Uldum completamente a caso insieme a ceneri delle terre esterne per quanto invece riguarda Imprevedibile sapete che Imprevedibile era in beta attualmente sta per finire la beta ma una cosa di sicura positiva in quanto tornerà molto molto presto andiamo a leggere quindi le righe l'attuale beta di Imprevedibile terminerà alla fine di questa stagione la sera del 31 luglio dopo la beta Imprevedibile sarà temporaneamente non disponibile mentre ci prepariamo al lancio ufficiale quindi praticamente per il mese della nuova espansione quindi per il mese di agosto non ci sarà Imprevedibile in quanto chiudono la beta e poi apriranno la nuova quando apriranno la nuova Imprevedibile sarà disponibile a partire dal 1 settembre con un nuovo formato un divertente sorpresa non perderti gli aggiornamenti man mano che si avvicina il lancio quindi avremo comunque aggiornamenti e informazioni sulla nuova modalità Imprevedibile che ovviamente cambierà il formato attualmente c'è Nuova Era che prevede le ultime espansioni di Aerson con la limitazione che non si possono giocare carte comuni ovviamente cambieranno sia i set e cambieranno anche le regole non vedo l'ora di vedere la nuova stagione di Imprevedibili il primo di settembre però ovviamente ad agosto abbiamo tutta quanta l'espansione e l'hype e tutto lì qua ovviamente la risoluzione dei problemi vi lascio comunque la patch note in descrizione in modo che ve la possiate andare a spulciare e vedere se avete delle cose particolari non è finita qui in quanto hanno annunciato il percorso di ricompense della nuova espansione Titani percorso di ricompense da cui non cambia praticamente nulla dagli scorsi ovviamente le bustine sono nuove abbiamo due leggendarie tre leggendarie in verità gratuite di cui una che è il 2-4 più due leggendarie casuali mi pare che sia una dovrebbe essere a livello 20 carta leggendaria casuale e l'altra dovrebbe essere a livello 50 carta leggendaria casuale invece Ignis la fiamma eterna appunto verrà regalata sempre a livello 1 quindi ricordatevi di andarla a sbustare fin da subito qui avete come detto tutti quanti i dettagli è uscito anche il pass invece Locanda a pagamento abbiamo sia Ignis dorato sia il luogo di Yogosaron dorato ma soprattutto abbiamo anche la carta dorata di Algalon Algalon molto molto bello non si fermano qui le carte diamanti in verità perché abbiamo anche che è Honor la protettrice della vita il titano del druido che appunto si completerà con l'impresa leggendaria di titani che è quella di collezionare tutte quante leggendari dell'espansione titani per quanto riguarda le coin sono queste qui devo dire abbastanza carine forse questa qui la preferisco e niente insomma queste erano tutte le news della patch che hanno rilasciato della notte della patch che hanno rilasciato ieri aspettiamo la patch stasera durante la car review magari andiamo anche a valutare un pochino e discuterne fatemi sapere voi cosa ne pensate noi quindi ci vediamo stasera belli carichi vi voglio tutti quanti in chat e niente ciao 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 ciao